Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie di essere venuti a vedere questa dimostrazione Prego, no dall'altra parte devo uscire Mi ha detto il signor Caliri che quella latta ovviamente poi se la porta via Allora, innanzitutto quello che vi presento quest'oggi è sicuramente qualcosa che avete già visto e già sentito Perché è lo spirito libero trattato con...